Ciao, io mi chiamo Matteo e questa è la mia Slazer. Ora adesso vi farò vedere una pista di prova per le macchine di scanciugo che ho costruito io. Ne abbiamo usato pezzi di cartone, di scatole, poi con delle piastrine di plastica, delle bottigliette di latte per fare le pareti e qualche pallina di colla e due pezzi di ferro per fare la parte finale. Ora vi farò vedere la pista di prova che ho costruito. Ora, tre, due, uno, via! E vede pare!